Sono stato invitato appunto dal mio committente che mi ha invitato a questa giornata di presentazione Yamaha abbiamo visto un po' di prodotti molto interessanti non sono proprio in particolare quelli che usiamo noi per il mercato del live ma comunque sono prodotti interessanti per le installazioni nei posti dove bisogna avere un'installazione fissa e hanno anche un bel design, un'ottima qualità costruttiva, molto interessante per il resto sono rimasto stupito dagli speaker a colonna in line array che producono per le installazioni fisse hanno un'apertura incredibile, molto avanti come tipo di tecnologia e devo dire che mi ha fatto rimanere molto interessato a questo tipo di tecnologia che vorrei provare anche in un'installazione personale mi sarebbe piaciuto provare la moto che ho qua davanti con tre ruote che deve essere molto interessante come guidabilità però sarà per la prossima volta probabilmente